Siamo vicini e adesso io e te, a differenza del solito, in cui siamo in due microfoni diversi La situazione è tutto sommato piacevole Perché abbiamo ceduto già il microfono agli ospiti che tra poco saranno in diretta con noi Ravi Facchinetti, Riccardo Fogli, abbiate pazienza Giusto questa canzone che intanto ci presenta Potete anche dire ciao, buongiorno Ciao a tutti Ciao a voi, ciao a tutti Ciao a Radio e ciao a Bruno Ecco, bravo, tutti e due, bravissimo Una delle canzoni del vostro album che siete appunto venuti a presentare che si chiama Insieme La canzone si chiama Strade E qui parte il coro, il coro che chiude la canzone che si chiama, oh oh oh, qui sembra quasi U2 Strade, Ravi Facchinetti, Riccardo Fogli, una metà dei Poo, bentrovati ragazzi Bentrovati voi, bentrovati voi, siamo veramente molto contenti Anche noi, perché più o meno in questo periodo, un anno fa, eravate in cinque qua vicino a noi E ricordo Roby che disse, però mi dispiace finire questa avventura anche perché stiamo avendo talmente tanto successo C'è talmente tanta richiesta ai nostri concerti, però come facciamo? Abbiamo detto che da dicembre non suoneremo più e dobbiamo mantenere fede alla promessa Un anno dopo, eccovi qui Un anno dopo, a parte che all'epoca non immaginavamo che accadesse questo No vabbè Non mi viene una parola Un anno fa ci pensavamo ai Poo Poi è successo durante il percorso, sai lui è un po' facchinettone qua E' uno che ti appogge, ti abbraccia, ti coinvolge, è generoso Abbiamo cominciato a cantare insieme queste canzoni di Facchinetti, dei Poo E' nato un feeling, poi fuori ci vedevamo, siamo dalla stessa generazione Siamo un pochino quelli, un pochino no, più un pochino vecchi No, meno giovani Ma è vero che è stato un abbraccio a Sanremo in particolare, liberatorio Ah, bravissima Vero? Ah, scaturisce molto anche da lì perché alla fine io intervengo e canto due righe Facchinettone mi dice dai dai canta con me sta cosa Mi sono avvicinato, abbiamo cantato Che era Uomini di Sole, il finale di Uomini di Sole E poi era anche un po' liberatoria Era mezz'ora che eravamo in diretta dal vivo, da vivissimi Quindi ci siamo allungati un dito, ci siamo stretti una mano Ci siamo abbracciati Era il giorno in cui c'erano i braccialettini, ti ricordi? Sì, che era legato credo al... Che cosa è quella? Legato al femminismo Alla libertà di... Libertà sessuale, sì Sessuale, cosa del genere Un giorno importantissimo Ma diciamo questo abbraccio Ha avuto tanti significati Perché bisogna dire che Riccardo è entrato Nei Poo grazie alla reunion Con molto disagio Perché mancava In punta di piedi Eh beh sì, veramente in punta di piedi Un pochino Io lo vedevo, lo avvertivo questo suo disagio Sul palco di Sanremo non ne parliamo Per cui eravamo tutti particolarmente emozionati Lui ancora di più Il brano era Uomini soli E lui cantò le ultime due o tre righe di Uomini soli Insieme a te? Insieme a me No Sì Insieme All'unisono E allora lui si è avvicinato E c'era questa emozione palpabile Lui era più che emozionato Allora diciamo che c'è stato questo bellissimo abbraccio Molto molto spontaneo Che ha colpito un po' tutti Giusto? Sì sì Un nuovo inizio per voi Sì beh non da lì proprio però Ti dicevano tutti che bella la vostra amicizia Si vince Poi cantate bene insieme Non avete mai pensato Un giorno Il nostro manager Federico Nando Salsano Che salutiamo Ci prese tutti e due Un po' alla facchinetta Un braccio di qua Un braccio di là E ci disse Ehi ragazzi ma che bello Se dovesse venirvi in mente Voglia di fare qualcosa insieme Sappiate che io ci sono E noi abbiamo risposto Anche noi Dillo te Dillo te Dillo te Beh insomma Abbiamo risposto subito anche noi Alla fine è uscito questo disco Che si chiama Insieme È uscito il 3 novembre scorso Ci sono 11 canzoni 8 inediti 3 cover Di questi inediti C'è una buona rappresentanza Di ciò che fece Valerio Negrini Beh sì Il nostro poeta Quello che ha scritto Però c'è anche Stefano Dorazio C'è anche due brani di Stefano Non esistono più Ci sono ricomposti Sì Vabbè a parte che sono molto contento Che ci siano questi Questi Arrivo anche il tuo Dopo Che ci sono questi 4 brani di Valerio Che è un bel molo per sentirlo ancora Con noi Ne parliamo continuamente Valerio è con noi Quindi E poi questi due testi fantastici di Stefano E poi E poi Qui il presidente Riccardo Foglio Che mi ha dato 3-4 calci Per ricordare anche Che lui ha scritto questo bellissimo testo Che si intitola Su una bellissima canzone Su una bellissima Il titolo è Il ritorno delle rondini E ha fatto veramente Un testo Lo dico io Non tu Un testo straordinario Molto spontaneo Molto sentito E ancora di più Lui è riuscito veramente A cuccare E proprio lo spirito Perché Si dice sempre Questo famoso matrimonio Dei brani Che funzionano Quando esiste Questo bel matrimonio Fra musica E testo E lui Devo dire che È riuscito a trovare O il marito O la sposa Della musica Dopo ti dicono Una cosa Uno come Riccardo Fogli Che riesce a cuccare Insomma Riesce a beccare Ma il primo colpo Il primo colpo In poche ore Vasta Ma sembra che stiamo parlando di sesso Parliamo d'altro Siete meravigliosi Perché ci sono Dietro le quinte Allora prima di andare in diretta Hanno provato a farsi un selfie Hanno scattato 124 fotografie E non riuscivano a mettersi d'accordo Su quale fosse quella giusta Da pubblicare Adesso dicono le cose Uno dà le spinte a quell'altro E i calci a quell'altro Sembrano veramente Due coniugi di lungo corso Di quelli che batti beccano sempre Ma non possono fare a meno L'uno dell'altro Due scemi assolutamente no Perché insomma Si percepisce l'amicizia Questo ritrovato Ritrovato entusiasmo No poi guarda Sempre ammesso che poi Si sia totalmente perso nel tempo Perché magari si sarà Un po' affievolito In certe situazioni Ci sono stati anni In cui non vi siete parlati Per un po' Allora Ma detto che adesso Ci stiamo Per riallacciarmi Riallacciarmi un attimo Un attimo discorso di prima Ci stiamo divertendo veramente molto Perché se Soprattutto per chi fa Il nostro lavoro Che è comunque Un lavoro straordinario Ma non bisogna mai Perdere il divertimento Bravo No che è la cosa più importante No che è la cosa più importante Poi devo dire che noi ci siamo ritrovati dopo 43 anni Anche se il rapporto non è mai poi finito Perché ci si sentiva giusto Ma parli sempre te però No ti sto dando adesso la possibilità di parlare Quindi alla prossima ora parli te Poi alla prossima ora parlo io Ho finito Ho finito io Ma è finito anche te Vai avanti Io No noi ci dobbiamo alternare Tu devi capire quando io sto Ho la chiusa o più o meno E tu vai avanti L'alternanza 30 secondi Cosa vuoi Allora io avevo due sogni Due sogni Durante la riunione Li ho maturati Uno era Un giorno scrivere un testo Su una canzone Di Fratellone Fracchinetti E con questo Aspettando le ronde Ci sono riuscito Poi ce n'è un altro Che non so se me lo farà finire Io avevo un sogno Di cantare storie di tutti i giorni Insieme a Robi Perché io sapevo Come le avrebbe cantate Mi immaginavo Che il mondo avrebbe detto Eccolo E' così che finalmente volevamo Fammi la domanda Come lo sognavi? No Come lo sognavi? Così Mi ha chiesto lui di dirlo Mi prende per il culo No Allora Le persone normali Quelle purtroppo come me E come voi Fanno storie Di tutti i giorni Invece lui Si è approcciato al microfono Affatto Non esagerare Storie Di un amico perduto E qui Siamo rimasti Non lo canto così Non lo canto così Canti così meglio Un giallo in più No Finito Finito Fermo Storie come amici perduti Storie come amici perduti Storie come amici perduti Ma sì ma è così Normale Alla Facchinetti Stai E io lo sognavo Ma è così Tu stai esagerando No E poi diventa buffo Ma no Ti mancherebbe Potrei mai Tu lo fai No No Pensavamo Un'intervista Con Facchinetti e Fogli E invece è cabaretto E' cabaretto E' cabaretto E' cabaretto Riccardo Fogli Che ci stanno raccontando qualcosa del loro disco Che si chiama Insieme Questa è una canzone che si chiama Le donne ci conoscono Noi eravamo già partiti prima che di entrare in diretta col discorso relativo alle donne L'importanza della donna nella nostra e nella vostra vita in maniera particolare Diciamo che questo testo è scritto da Valerio 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 Negrini Questo è un capolavoro Che salutiamo E' un cielo che ci guarda Ogni tanto lo facciamo ridere Capiamo che lui sta ridendo delle nostre battute Era un dissacratore ma era un genio Un profeta Scriveva sempre vent'anni avanti Ecco le donne Voi siete sempre piaciuti moltissimo Le donne continua così anche dai messaggi Piaciamo anche a te Ad arrivare Moltissimo Come potrebbe essere diversa Ma no Ma scusa Hai parlato con lei per un quarto d'ora Ho parlato con lei di mia moglie Esatto Sì Ha parlato di sua moglie, di quanto la ama e di quanto sia la donna più bella del mondo Posso confermare Partire da lì proprio, dalla fedeltà, dall'amore che provate nei confronti delle vostre compagne di vita Delle vostre mogli Ci stanno ascoltando Grande importe ci stanno ascoltando Dobbiamo dire necessariamente cose meravigliose Va detto questo Il mondo senza donne non esisterebbe E qui ci siamo Diciamo che anche gli uomini hanno una loro partecipazione Diciamo una cosa originale però E poi no E poi vorrei aggiungere che se le donne anche di oggi dovessero scoprire quanto sono importanti per l'uomo Noi già, capito, ci rendono la vita non facile Io a mia moglie glielo dico tutti i giorni quanto è importante Non è vero, questo è un bugiarto Non è vero Ma che piero Lui, capito, dice ad hoc Una volta a settimana Ad hoc, sì, una volta a settimana può essere Ma no, ma glielo dico tutti i giorni Amore, amore, mi manchi, mi manchi, mi manchi Una cosa che penso, dopo aver conosciuto tanti artisti È che i loro partner e le loro partner in particolare Abbiano una grande pazienza E a volte anche l'aureo là sopra Perché poi, qual è il problema vero? Non è tanto quello delle altre donne È che la musica diventa un po' totalizzante nella vita Quindi loro sono sempre un po' così in punta di piedi che arrivano È così anche per voi? I chilometri, le distanze Io vedo mia moglie una volta ogni 10 giorni Prendo un treno, vado, abbraccio mia moglie e le mie bambine a due giorni E poi riscappo Poi c'è anche il discorso Lei ha toccato una cosa molto vera Perché la musica è la nostra donna La donna è molto esigente Perché la musica ti dà Ma vuole in cambio veramente tantissimo Ed è vero che mia moglie è un po' gelosa Di questo amore che io posso avere per la musica Infatti quando lei parla con amici E con gente E dice no ma lui è a casa Però suona sempre Però è sempre Dov'è Robby? E sta suonando È in studio Cioè io Se non sono a casa Sono fuori chiaramente per la musica Però c'è questo Questo amore che porta via veramente tanto spazio E allora come si diceva appunto prima A microfoni spenti Se una compagna non capisce che per noi la musica è una droga Ma tanto per minimizzare molto di più di una droga E quando entra dentro veramente ti travolge Ti porta via tutto E se la compagna non capisse questo Allora sono guai Ok No beh è difficile mantenere un rapporto Vuoi aggiungere qualcosa? No no Io quando vado a casa Tra mia moglie La chitarra la lascio in macchina E sto un giorno e mezzo abbracciata Mia moglie e mia figlia Sì ma un pianoporte Gran coda Stanway non lo posso lasciare in macchina Hai ragione È difficile È complicato È un po' pesante Ci vuole un tir È anche un po' ingobrante in effetti Buon idea Un tir Un tir Insieme dicevamo il vostro album Ci sarà anche un tour Allora voi siete in due Ovviamente in due È difficile da riempire un palcoscenico Io ho sentito che c'è anche Steph Barnes Il chitarrista americano del Blasco Che fa una solo in questo disco E la domanda è E vanno via È d'obbligo Chi suonerà con voi E chissà Ci sarà anche lui qualche volta No 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 Ci sarà lui Non diciamo false notizie Non è detto Adesso tu non vorrei capito Limiti alle possibilità Ci sarà comunque una Una grande band E la stiamo Grandi musicisti Amici nostri Grandi musicisti Perché Noi a livello musicale Abbiamo veramente tanto da raccontare E ci divertiamo Ci divertiamo A livello musicale A non Ci sarà veramente su quel palco Oltre al nostro insieme Anche il resto Quali sono le date in cui abbiamo I biglietti Questo lo dici tu Allora abbiamo aperto la vendita dei biglietti Per il 7 di aprile A Milano E per il 9 di aprile A Roma A Milano Al forum E a Roma A Palalotto Palalottomatica 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 Dillo Palalottomatica Ma cosa ho detto io Scusa Palalotto Finito Ma scusa ma non è uno che sta a Roma Palalottomatica Anticipiamo un po' Tagliamo un po' Palalotto Le premendite sono già iniziate Sì sono già iniziate Stanno andando molto 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 Mi raccomando Mi raccomando Ringraziamo tutti i nostri amici Che già hanno comprato i biglietti E per venirci a trovare Benissimo Si divertirà Ha una domanda Io sono Allora Io sono un fan Il pubblico Io sono un pubblico Senta signor Facchinetti Ma nel vostro concerto No mi dicono Robi Robi No sono Facchinetti Robi Facchinetti Questi che chiamano Facchinetti Non rispondite Sì ma di solito Dicono Robi Senti Robi scusami Ma farete anche le canzoni di Poo Soprattutto le canzoni di Poo Perfetto Sono state parte La vostra vita direi Che è una domanda No la capito Ma fai È una domanda È pneumatico Che aveva la tua domanda Pneumatico Forse pneumatico Pneumatico Ragazzi Vi terremo qui quattro ore Ma purtroppo Il tempo è quello che è Grazie È stato un grande piacere Noi ci salutiamo Piacere nostro Dalla nostra abitudine Con una canzone Che voi avete scelto È una canzone Che riporta Le origini dei Poo Alle origini All'inizio Della vostra amicizia Che come abbiamo avuto malo Di capire oggi È ancora ben salda Ben forte Una canzone Che è dei Beach Boys Si chiama Goodbye Brations Ah che regalo Grazie Ciao Grazie a voi Ciao 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 Ciao